Carabinieri in cattedra per l'open day della caserma dell'Aquila dedicata ai bambini degli elementari, un modo per conoscere da vicino le attività dell'arma dei carabinieri che ha messo in mostra mezzi e specialità. Ad accoglierli il capitano Francesco Nacca. Sono attività che noi svolgiamo tutto l'anno presso gli istituti di ogni ordine e grado e per quanto riguarda le scuole elementari è previsto invece un incontro nelle nostre caserme presso i comandi compagnia e provinciali dove poter far vedere con mano, far toccare con mano i mezzi e gli equipaggiamenti in uso all'arma dei carabinieri. Ovviamente la giornata è stata scelta proprio nella giornata odierna perché ieri è ricorso il 202esimo della fondazione dell'arma dei carabinieri. Tutti in fila e tutti attenti nel seguire le spiegazioni dei carabinieri che hanno raccontato ai ragazzi e tutte le loro attività sul territorio suscitando l'interesse dei bambini che hanno interagito con i militari con tante domande. Iniziative importanti queste per avvicinare ancora di più la cittadinanza ai carabinieri. Ecco rispetto al passato notiamo un'apertura sempre maggiore dei carabinieri, dell'esercito, anche della polizia insomma all'esterno. Quanto vi aiuta questo poi nel quotidiano anche nella collaborazione con il cittadino? È sicuramente fondamentale. La naturale vocazione dell'arma dei carabinieri è quello di avere un rapporto diretto con il cittadino e ancora di più con le giovani leve non solo per far conoscere l'arma ma proprio per inculcare una cultura della legalità di cui c'è sempre più bisogno in ogni ambito. Grazie. 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 Grazie.